Musica Chico Filippi appunto noi parliamo proprio con il fratello Clemente Filippi che a Castellammare tutti quanti conoscono è stato organizzato questa bellissima cosa in memoria di un ragazzo possiamo dire che era un ragazzo che ha fatto tanto per Castellammare con quella giuventude stabile che ha fatto sognare tanti ragazzini ha vincitato tanti al mondo del calcio Sì, diciamo è un'iniziativa che mi ha emozionato perché è partita da gli amici ex calciatori che hanno dovuto ricordare mio fratello a 12 anni dalla scomparsa quindi questo è il secondo memoria, il primo venne fatto nel 2006 e ci auguriamo che questo possa essere il secondo, però il primo di una lunga serie che possa essere sempre migliore l'organizzazione con la presenza sempre più di calciatori di amici soprattutto e che Chicco era amato e voluto bene da tutti e lo dimostra il fatto che la presenza di tutte queste persone che ci sono qui nella giornata di festa di domenica dove potevano stare al mare tranquillamente Eccoci, vuoi svelare magari se ti viene un aneddoto di Chicco magari quando era ce ne saranno tanti giustamente ma una cosa che ti porterà sempre nel cuore di tuo fratello? No, va bene è difficile dirne uno perché al di là del rapporto cioè di un fratello ti ricordi tutto quindi è una cosa che adessano a noi sicuramente era una persona a dire tra di tutti passionale una persona che si faceva voler bene che amava Castellammare e quindi nel suo piccolo diciamo con una realtà piccolissima perché stiamo parlando di una squadra che è partita dalla terza decoria comunque è riuscita ad arrivare in prima decoria diventando comunque in quegli anni un punto di riferimento per il calcio minore oltre a Juventude la libertà non solo lì c'era la Juventude Ecco sì infatti stavo parlando di Juventude seconda squadra in quella circostanza noi abbiamo sempre detto che a Castellammare è difficile fare calcio Juventude per testimonianza con il presidente Mannillo che riesce a fare dopo tanti sforzi calcio ancora a Castellammare con la passione che anche lui lega la città di Castellammare adesso tutti si chiedono che cosa succederà ovviamente lo saprà solo il presidente Mannillo per il prossimo anno però c'è ancora questa grande diciamo delusione per come è finita quella partita 0-0 1-1 in circostanze del genere si passa passa doveva passare la Juventude ma è andata così diciamo che con la mente era chiaro già dall'inizio quindi alla fine non va accettato quindi ci può essere solo un rammarico per questa cosa di essere riusciti a fare un gol in trasferta però il rammarico è altro il rammarico è il fatto di non aver avuto la buona sorte dalla nostra parte perché già nel match d'andata si poteva concludere un po' di risultato diverso Palo di Papone si e poi l'atteggiamento della Reggiana che comunque aveva timore questo è un segnale che dai quando gli avversari ti temono significa che comunque sei una grande squadra e l'abbiamo dimostrato a Reggio perché ad 8 minuti alla fine a 10 minuti alla fine eravamo passati eravamo in vantaggio di nuovo però adesso è inutile recriminare per il futuro adesso ci vediamo questa giornata in memoria di mio fratello di Chico poi è normale che bisogna fare delle attente valutazioni è normale che la chiave dell'acqua come si suol dire c'era a maniello ed è solo è stato lasciato solo per anni senza che diciamo sempre le stesse cose e quindi adesso le valutazioni spettano a lui grazie